Buonasera amici, questa mattina mi sono recata alla profumeria Estasi situata nel mio paese San Cesareo e ho acquistato tre rossetti. Ora vado a mostrarveli, sono sicura che vi piaceranno tantissimo. Eccoli qui, allora c'era una speciale promozione sui rossetti della Wet n Wild, li ho pagati questi due, ognuno 1,50€. Allora, io ho preso il rossetto Wine Room, ne ho presi due uguali, quindi entrambi Wine Room, così uno lo regalerò a mia madre e uno è per me. Questa è la colorazione che hanno, devo ancora scartarli e togliere il cellofan. Ora viene il pezzo forte dei miei acquisti. Ho acquistato il rossetto che è iconico qui su TikTok, il rossetto impertinent della L'Oreal Paris, Colorish L'Oreal Paris, numero 173. Devo ancora togliere la pellicola adesiva, perché così non posso mostrarvi che colore ha. Comunque è un nude, diciamo se seguite i video di prodotti di bellezza su TikTok, certamente saprete la colorazione che ha. È un nude, molto intenso però. Soprattutto molto adatto a chi come me è mediterranea, è una donna mora. Eccolo qui. Questa è la colorazione che ha. Ha un colore cappuccino molto intenso. Probabilmente vi starete chiedendo con quali matite andrò ad abbinare i due rossetti che ho acquistato. Allora vi specifico che per quanto riguarda i rossetti Wine Room, li abbinerò a questa matita labbra che avevo già acquistato l'anno scorso, presso la parafarmacia Equiparafarmacie. Il brand è qui ed è la numero 135. Questo è il colore che ha. Invece per quanto riguarda il rossetto che vi ho mostrato, quello che piace molto su TikTok, l'impertinent numero 173 Color Riche by L'Oréal Paris, lo abbinerò a questa matita che avevo già acquistato l'anno scorso, è una matita color cappuccino molto intenso e è la numero 57 del brand di Makeup, Cost Makeup Italia. Che ne dite? Fatemi sapere se avete già provato questi prodotti. Buona serata a tutti.